Intelligenza artificiale e irrigazione degli oliveti attraverso impianti sostenibili. Il futuro della produzione dell'extravergine di qualità passa per due approcci fuori dal comune, lontani rispetto alle consuetudini tradizionali. Lo sostengono due frantoiani doc del Cuore Verde, Andrea Gaudenzi e Graziano Decimi, che attraverso l'iniziativa Olivolio hanno fatto il punto sullo stato dell'arte nel settore. Un confronto diretto con ricercatori, consulenti e giornalisti dedicato al tema dell'innovazione di processo e di prodotto nella filiera olivicolo-olearia italiana. L'appuntamento realizzato in collaborazione con associazioni produttori dell'olio e associazioni internazionali e ristoranti dell'olio, tenutosi ad Assisi, organizzato da ANC Company, è stato cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, misura 16 cooperazione, tipologia di intervento, sviluppo e commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. Una tavola rotonda che si è conclusa con una degustazione di olio Evo, di differenti cultivar Umbre e una serie di pietanze elaborate dallo chef Gabriele Mattiacci, partendo dalla filosofia dell'olio come ingrediente. Nel dibattito è stato evidenziato il cambio di passo radicale che stanno vivendo i frantoi. Il mondo dell'olivicoltura Umbra sta andando verso una direzione molto importante. Si è al centro di un cambiamento epocale iniziato negli ultimi 20 anni, una trasformazione che sta crescendo in modo costruttivo, sia per le conoscenze sempre maggiori, sia per il fatto che tra frantoiani e produttori più giovani c'è un confronto che arricchisce il comparto, ma soprattutto perché c'è stata una grande innovazione tecnologica. Per quanto riguarda l'innovazione veniamo da un periodo in cui ci si è concentrati molto sul campo relativo all'estrazione dell'olio, quindi con tecnologie sempre più all'avanguardia che ci hanno consentito di incrementare in maniera esponenziale il livello qualitativo negli ultimi anni. Secondo me la sfida un po' per il futuro è concentrarsi ora sul tema della sostenibilità, quindi riuscire a tenere prodotti che siano appunto più sostenibili dal punto di vista dell'impatto ambientale, soprattutto dal punto di vista del bisogno idrico.